L'equazione di Schrödinger che descrive il comportamento dell'elettrone negli atomi, elettrone considerato come un'onda, dà delle soluzioni rigorose per l'atomo dell'idrogeno e per i sistemi idrogenoidi, cioè i sistemi costituiti da più protoni e da un solo elettrone, tipo ad esempio l'ione Elio che ha perso un elettrone, l'ione He+. Quando l'equazione di Schrödinger descrive il comportamento degli elettroni negli atomi poli-elettronici, nell'equazione intervengono, aumentano il numero delle variabili per cui la soluzione diventa più complessa. Si sono però potute ottenere, mediante un metodo di approssimazioni successive, delle soluzioni approssimate, quindi delle funzioni d'onda psi approssimate, che descrivono il comportamento dell'elettrone negli atomi poli-elettronici. Ora, in queste soluzioni approssimate dell'equazione di Schrödinger, si trovano gli stessi numeri quantici N, L ed M che abbiamo analizzato precedentemente nelle soluzioni valide per l'atomo dell'idrogeno. Numeri quantici correlati tra di loro nello stesso modo. L'unica differenza è questa, che mentre per l'atomo dell'idrogeno l'energia dell'elettrone dipendeva soltanto dal numero quantico principale N, N, nel caso degli atomi poli-elettronici, l'energia dell'elettrone dipende anche dal numero quantico secondario. Ora, qui è rappresentata in questa slide la successione delle energie per, della successione delle energie degli orbitali negli atomi poli-elettronici. Ora, si vede che nell'ambito di uno stesso numero quantico principale N, l'energia del 2P è maggiore del 2S. Nell'ambito del numero quantico principale 3, l'energia del 3D è maggiore del 3P ed è maggiore del 3S, in parole povere. Possiamo riassumere in questo modo. Le funzioni d'onda che descrivono il comportamento degli elettroni negli atomi poli-elettronici sono caratterizzate dai numeri quanti C, N, L ed M correlati tra di loro nel modo che noi conosciamo. L'energia però dipende non solo da N ma anche dal valore del numero L e precisamente con l'aumentare nell'ambito di uno stesso strato elettronico, con l'aumentare di L aumenta l'energia. Ora, faccio notare che la differenza tra, questa è una successione qualitativa chiaramente, ma riporto l'attenzione su questo fatto che la differenza di energia tra i livelli con numero quantico principale 2 e quelli con 1 è grande, è ancora abbastanza grande tra gli orbitali con numero quantico 3 e numero quantico 2, mentre invece successivamente, quando aumenta il numero quantico, le differenze di energia tra i livelli successivi diminuisce. Nell'ambito di uno stesso numero quantico principale, la differenza tra i livelli energetici è piccola. Sulla destra viene riportato l'ordine sequenziale di riempimento degli orbitali da parte degli elettroni. Ora, che innanzitutto dobbiamo chiarire un concetto, non sarebbe molto corretto parlare di riempimento degli orbitali da parte degli elettroni. Per quegli accenni che abbiamo fatto di meccanica ondulatoria dovremmo dire, dovremmo parlare di orbitali che descrivono il comportamento degli elettroni e non di elettroni che si vanno a mettere negli orbitali. Però questa incorrettezza è accettata universalmente, quindi anche noi la dotiamo. Ora, io faccio osservare che la successione delle energie, nel caso dei... Questo è l'ordine energetico degli orbitali in funzione del numero quantico principale, mentre invece l'ordine sequenziale di riempimento si scosta in parte dall'ordine teorico delle energie. Infatti noi osserviamo che dall'orbitale 1s fino all'orbitale 3p la successione è uguale. Poi qui invece a partire dal 3d la successione non è, non corrisponde più. Infatti si riempiono prima gli orbitali 4s e poi gli orbitali 3d. Gli orbitali 4s portano un numero quantico principale maggiore, quindi questa rappresenterebbe, vedendola così, una inversione. Ora, questo è dovuto al fatto che gli orbitali 3d che noi non abbiamo rappresentato, le cui superfici limiti non abbiamo, diciamo così, illustrato, contengono due superfici nodali passanti per il nucleo. Il che significa che un elettrone in esso, in essi, subisce minora attrazione da parte del nucleo dell'attrazione che subirebbe un elettrone che si trova in un orbitale 4s che non ha superfici nodali passanti per il nucleo. In altre parole, siccome a minora attrazione corrisponde maggiore energia, ecco perché l'orbitale 3d ha un'energia superiore all'orbitale 4s, quindi in fase di riempimento degli orbitali verrà riempito prima il 4s del 3d. Poi, come osservate, questo quindi si può, anche il 5s viene riempito prima dei 4d. In parole povere, gli nd vengono riempiti dopo gli nd più 1s, anche se hanno numero quantico principale minore. Ora, questi tipi di inversione sono frequenti nelle disposizioni, nel riempimento degli orbitali da parte degli elettroni e diventa sempre meno facile dare delle spiegazioni semplici perché ogni atomo ha il suo edificio, è ricco di elettroni e la disposizione degli elettroni in questo atomo dipende da tanti fattori. Dipende dal numero degli elettroni, dipende dalla schermatura effettuata dagli elettroni interni sulla trazione che esercita il nucleo sugli elettroni periferici. Per cui le cose sono più complesse di quanto non possano sembrare. Possiamo, come dire, ritenerci abbastanza soddisfatti se possiamo disporre di principi che ci permettano di descrivere a tavolino, di prevedere e quindi di scrivere a tavolino la configurazione elettronica degli atomi polielettronici in modo tale che si accordi con la configurazione elettronica che viene dedotta da metodi sperimentali quali analisi degli spettri atomici, misure di momento magnetico. Ora, i principi che ci aiutano in questa distribuzione sono il principio di esclusione di Paoli e la regola della massima molteplicità di Hund. Il principio di esclusione di Paoli afferma che due elettroni non possono, non più di due elettroni possono essere descritti dalla stessa funzione orbitale il che significa che non più di due elettroni possono avere lo stesso valore del numero quantico principale n del numero quantico secondario l del numero quantico magnetico m e questi elettroni devono avere numero quantico di spin opposto. Un modo più semplice per esprimere il principio di esclusione di Paoli è questo. Un orbitale non può contenere più di due elettroni e questi elettroni devono avere direzioni di spin opposto. I due elettroni a spin opposto si dicono accopiati e si indicano in questo modo uno con la freccia in basso e un altro con la freccia in alto. Il secondo principio che è il principio di Hund chiamato anche il principio della massima molteplicità secondo questo principio negli atomi poli elettronici gli orbitali degeneri ricordo che sono orbitali con la stessa energia vengono dapprima occupati tutti in modo singolo singolarmente dagli elettroni con spin parallelo infatti queste sono condizioni che soddisfano il minimo di energia e solo successivamente da altri elettroni che si accoppiano con i precedenti facciamo un esempio noi dobbiamo disporre due elettroni in orbitali di tipo P gli orbitali di tipo P sappiamo che sono tre e sappiamo che sono degeneri quindi i due elettroni vanno ad occupare singolarmente due orbitali a spin parallelo se negli orbitali di tipo P ne dobbiamo porre tre occupiamo singolarmente e a spin parallelo con gli elettroni tutti e tre gli orbitali se dobbiamo disporne quattro di elettroni negli orbitali P il quarto andrà ad accoppiarsi con uno degli elettroni già presente negli orbitali di tipo P ora dopo aver enunciato questi principi siamo in grado di affrontare il principio dell'Aufbau la configurazione elettronica o chiamata anche struttura elettronica degli atomi polielettronici si ottiene mediante un meccanismo fittizio di costruzione chiamato principio dell'Aufbau secondo questo principio Aufbau dal tedesco secondo questo principio gli elettroni si vanno a disporre nell'ordine si vanno ad occupare gli orbitali secondo l'ordine di rientimento di questi orbitali ubbidendo alla principio di Paoli di esclusione di Paoli e alla regola della massima molteplicità di Hund si occupano prima gli orbitali a minore energia poi quelli a maggiore energia ubbidendo sempre a questi principi in modo da realizzare un sistema col minimo di energia ricordo che parliamo di configurazioni elettroniche degli atomi poi elettronici nello stato fondamentale cioè nello stato di minore energia ora qui è riportato l'ordine di riempimento degli orbitali atomici degli orbitali negli atomi di riempimento degli orbitali negli atomi da parte degli elettroni secondo il principio di Aufbau per ricordarci questo ordine di riempimento ci serviamo di questo diagramma questo diagramma è stato costruito in modo tale da riportare sulla stessa riga gli orbitali atomici con lo stesso numero quantico principale quindi per il valore di n uguale a 1 l'unico orbitale atomico 1s per il valore di n uguale a 2 gli orbitali atomici possibili e così via e in maniera tale che vengono a giacere dunque sulla stessa riga gli orbitali atomici con lo stesso numero quantico principale e nella stessa colonna gli orbitali con lo stesso valore del numero quantico secondario L per L uguale a 0 abbiamo orbitali di tipo S per L uguale a 1 abbiamo orbitali di tipo P per L uguale a 2 di tipo D per L uguale a 3 di tipo F ora si deve seguire il percorso di queste frecce quando si è esaurita diciamo così quando è stata percorsa una freccia si passa alla freccia successiva quindi l'ordine di riempimento è seguiamo la direzione di queste frecce prima vengono riempiti gli orbitali 1S poi vengono riempiti gli orbitali 2S poi gli orbitali 2P e i 3S i 3P e i 4S i 3D i 4P ed i 5S per adesso ci fermiamo cioè analizzeremo le configurazioni elettroniche degli elementi corrispondenti al riempimento degli orbitali fino fino diciamo così al 5 al al 4P o 5S ora prima di affrontare le configurazioni elettroniche degli atomi polielettronici è utile che noi ricordiamo che gli elementi sono stati suddivisi nella cosiddetta tavola periodica degli elementi questa tavola periodica che qui vedete illustrata che qui vi viene presentata riporta gli elementi in ordine successivo di numero atomico cioè si aumenta il numero atomico nell'ambito della riga e poi si ricomincia da capo con l'aumento del numero atomico nella riga successiva questa tavola è divisa in righe chiamati periodi ed in colonne chiamati gruppi il primo periodo comprende l'elemento idrogeno e l'elemento elio quindi la prima riga comprende solo due elementi ora applicando i principi di Aufbau vediamo la configurazione elettronica dell'idrogeno e dell'elio allora con Z riportiamo il numero atomico l'idrogeno che ha simbolo H possiede un solo protone e quindi nell'atomo neutro un solo elettrone questo elettrone verrà descritto dall'orbitale 1S o è come dire che nell'orbitale 1S vi è un solo elettrone possiamo allora indicare l'1S ogni orbitale con un circolo e con un cerchietto e dire che vi è un elettrone nell'orbitale 1S l'elio è l'elemento che troviamo successivamente nella riga quindi che ha numero atomico 2 i due elettroni dell'atomo di elio sono descritti dagli orbitali 1S e devono avere spin antiparallelo quindi nell'orbitale 1S avremo due elettroni a spin antiparallelo e diciamo che sono due elettroni accopiati ora passiamo adesso a descrivere le configurazioni elettroniche della seconda riga la seconda riga chiamato secondo periodo comprende gli elementi littio beriglio boro carbonio azoto ossigeno fluoro e nion la configurazione elettronica di questi atomi è la seguente il littio ha un elettrone in più del gas nobile che abbiamo visto del gas nobile precedente ecco scusate ho dimenticato una cosa quando l'elio aveva questa configurazione elettronica quando uno strato è completo è una configurazione particolarmente stabile e l'elemento di elio viene chiamato gas nobile nel senso che è un elemento poco reattivo quindi che reagisce poco da qui la sua nobiltà di tipo chimico quindi ritornando allora alla configurazione elettronica degli elementi del secondo periodo anziché scrivere che 1s2 è meglio scrivere configurazione dell'elio cioè scrivendo configurazione dell'elio cioè mettiamo il simbolo dell'elio tra parentesi quadre sta ad indicare che dei tre elettroni del litio due sono nell'orbitale 1s quindi si ha la configurazione del gas nobile elio l'elettrone ulteriore va a disporsi nell'orbitale 2s nel beriglio che ha un elettrone in più del litio l'elettrone va ad accoppiarsi con l'elettrone già esistente nell'orbitale 2s e ubbidisce al principio di esclusione di paoli quando si passa al boro che ha cinque elettroni i tre elettroni in più rispetto all'elio vanno i primi due nell'orbitale 2s a spina antiparallelo l'altro elettrone andrà nell'orbitale ad energia superiore che è il 2p nel caso del carbonio i quattro elettroni in più dell'elio sono disposti 2 nel 2s e 2 nel 2p come vedete a spin parallelo per ubbidire alla legge alla regola della massima moltiplicità di Hund nel caso dell'azoto i cinque elettroni in più dell'elio vanno a disporsi come vedete 2 nel 2s e 3 a spin parallelo nel 2p nel caso dell'ossigeno vi è un elettrone in più che andrà ad accoppiarsi con un elettrone presente in un orbitale 2p nel caso del fluoro un elettrone ulteriore va ad accoppiare un altro elettrone nell'orbitale 2p fino a che con il neon cioè elemento che ha numero atomico 10 quindi che ha esattamente di 8 elettroni in più dell'elio si ha il completamento sia degli orbitali 2s che degli orbitali 2p prima di procedere chiariamo subito che si chiamano elettroni di valenza gli elettroni in più di strutture elettroniche complete stabili quindi diciamo che il litio ha un elettrone di valenza il beriglio ha 2 elettroni di valenza il boro ha 3 elettroni di valenza il carbonio 4 elettroni l'azoto 5 elettroni di valenza l'ossigeno 6 elettroni il fluoro 7 elettroni l'azoto l'elio l'ineon ha raggiunto una configurazione talmente stabile che questi elettroni hanno delle grosse difficoltà ad entrare in reazione con gli altri con altri elementi e siccome la valenza è collegata agli elettroni che entrano in combinazione diciamo che praticamente il numero di elettroni di valenza del neon sono 0 e si dice che il neon ha raggiunto una configurazione adottetto d'ora in poi per noi le configurazioni adottetto cioè con il guscio esterno con lo strato elettronico esterno che comprende sia i livelli 2S che i 2P completo allora quando questo guscio esterno è completo si dice che si è raggiunto la configurazione adottetto e questa configurazione è particolarmente stabile prima però di procedere alla descrizione del gruppo del periodo successivo dobbiamo ancora puntualizzare una cosa importante importante perché si rifletterà poi sul comportamento chimico delle sostanze dei vari elementi e le capacità di combinazione di un elemento che analizzeremo nelle lezioni successive dipende dal numero degli elettroni spaiati quindi così detto in generale senza entrare nei particolari da qui sembrerebbe che il litio ha capacità di combinazione 1 il beriglio 0 perché non esistono elettroni spaiati del boro capacità di combinazione 1 e per il carbonio capacità di combinazione 2 3 per l'azoto 2 per l'ossigeno 1 per il fluoro ora noi sappiamo che invece invece che il beriglio ha capacità di combinazione 2 il boro capacità di combinazione 3 il carbonio capacità di combinazione 4 tutta la chimica del carbonio è basata sulla capacità di combinazione 4 del carbonio ora questo si spiega ammettendo che uno degli elettroni che era accoppiato uno degli elettroni ad esempio nel caso del beriglio uno degli elettroni che era spin antiparallelo nell'orbitale 2s si porti venga venga promosso all'orbitale 2p a spin parallelo ora questo è possibile in seguito alla piccola differenza di energia che ci sono tra orbitali 2s e 2p che hanno lo stesso numero quantico principale quindi la capacità di combinazione 2 del beriglio viene giustificata con la promozione di un elettrone da un orbitale 2s ad un orbitale 2p dato che la differenza di energia tra i 2s e i 2p come ho già detto è minima per il boro la capacità di combinazione 3 si spiega mettendo la promozione di un elettrone che prima era accoppiato nell'orbitale 2s ad un orbitale 2p in modo tale che il boro presenta un elettrone disaccoppiato nel 2s e 2 elettroni disaccoppiati nel 2p per il carbonio idem un elettrone dal 2s viene promosso al 2p in questo modo spieghiamo le capacità di combinazione 2 del beriglio 3 del boro 4 del carbonio queste configurazioni elettroniche con elettroni promossi a livelli energetici ad energia leggermente superiore questo stato si dice lo stato degli atomi nello stato eccitato cioè si dice che questa configurazione spetta agli atomi nello stato eccitato per l'azoto per l'ossigeno e per il fluoro questo non è possibile e vedremo quanto questo è importante nelle caratteristiche chimiche di questi elementi perché per promuovere elettroni dovrebbero promuoverli in orbitali ad energia successiva che è ad energia maggiore che sono i 3s ma la differenza di energia come ho puntualizzato poco tempo fa tra gli orbitali con numero quantico 3 e quelli con numero quantico 2 troppo elevata quindi questa promozione elettronica non è possibile né per l'azoto né per l'ossigeno né per il fluoro passiamo ora a vedere quali sono gli elementi che giacciono nel terzo periodo il terzo periodo corrisponde alla terza riga della tavola periodica e comprende gli elementi sodio magnesio alluminio silicio fosforo zolfo cloro e arco la configurazione elettronica di questi elementi è qui riportata quindi il sodio ha 11 elettroni ha un elettrone in più del neon ora questo elettrone si dispone nel 3s allora possiamo in questo caso leggerla diciamo così un po' più velocemente e dire la configurazione del sodio è neon poi 3s1 nel senso che vi è un elettrone nell'orbitale 3s quella del magnesio nello stato fondamentale è neon 3s2 per l'alluminio neon 3s2 3p1 per il silicio neon 3s2 3p2 per il fosforo neon 3s2 3p3 per lo zolfo neon 3s2 3p4 per il cloro neon 3s2 3p5 per l'argo 3 neon 3s2 e 3p6 risulta evidente subito che gli elettroni di valenza sono 1 2 3 4 5 6 7 rispettivamente per sodio magnesio alluminio silicio fosforo zolfo e cloro quindi avete già visto che con l'aumentare del numero atomico la configurazione elettronica esterna si è riproposta quindi diciamo così la configurazione elettronica esterna avete visto che si è una funzione diciamo così periodica del numero atomico osserviamo dobbiamo completare le nostre osservazioni con l'argo abbiamo di nuovo ottenuto una configurazione adottetto quindi capirete che l'argo è un altro elemento poco reattivo e quindi consideriamo praticamente che gli elettroni di che la configurazione adottete particolarmente stabile quindi in una capacità di combinazione se guardiamo le configurazioni elettroniche di questi atomi e questi sono naturalmente di questi atomi osserviamo che anche in questo caso vi sono elettroni accopiati ad esempio per il magnesio il che suggerirebbe capacità di combinazione zero ora sappiamo che il magnesio ha capacità di combinazione due e l'alluminio tre e il silicio quattro di conseguenza sappiamo già come giustificarla cioè la capacità di combinazione due del magnesio viene giustificata ammettendo la configurazione citata del magnesio con due elettroni uno nel 3S e un altro nel 3P questi sono i tre elettroni di valenza dell'alluminio nello stato eccitato questi gli elettroni di valenza del silicio nello stato eccitato voglio ricordare che il magnesio si è comportato come il predecessore beriglio l'alluminio come il predecessore boro il silicio come il predecessore carbonio osservate qualcosa di diverso per gli elementi che seguono fosforo zolfo cloro il fosforo lo zolfo e il cloro avevano elettroni di valenza simili era diverso il numero quantico principale però nello stato fondamentale il fosforo lo aveva simile all'azoto lo zolfo simile all'ossigeno il cloro simile al fluoro se non che ciò che non era possibile per l'azoto per l'ossigeno e per il fluoro è invece possibile per il fosforo lo zolfo e il cloro infatti il fosforo può presentare cinque elettroni spaiati questo perché la differenza di energia tra gli orbitali che seguono cioè dopo i 3p a parità di numero quantico la differenza di energia è piccola quindi è possibile la promozione di un elettrone da un orbitale 3s ad un orbitale 3p la stessa cosa vale per lo zolfo qui per lo zolfo e anche per il cloro qui sono riportate le promozioni totali dello zolfo e quindi nel caso dello zolfo può avere una promozione totale corrispondente a 6 elettroni spaiati quindi possiamo già anticipare che avrà capacità massima di combinazione 6 mentre il cloro avrà capacità massima di combinazione 7 dopo il terzo periodo nella tavola periodica voi osservate una riga un periodo particolarmente lungo che incomincia con un elemento potassio che ha un numero atomico 19 ora questa tavola periodica il questo periodo il quarto periodo comprende gli elementi potassio calcio scandio titanio vanadio cromo manganese ferro rame pardon cobalto nickel rame zinco gallio germannio arsenico selenio bromo e cripto quindi dobbiamo far vedere cercare di diciamo così costruire a tavolino la configurazione elettronica di questi elementi incominciamo con i primi due con il potassio e con il calcio il potassio ha un elettrone in più del largo e lo dispone l'elettrone nell'orbitale 4s perché noi sappiamo che l'ordine nell'ordine di riempimento degli elettroni viene il 4s il calcio distribuisce il successivo elettrone accopiato nell'orbitale nel 4s cioè con il calcio si completa l'orbitale 4s qui non parleremo più di eccitazione avete capito che il calcio eccitato presenterà due elettroni spaiati splittando questi elettroni in orbitali ad energia abbastanza vicina per cui si presenta con due elettroni spaiati ma questo è un argomento che non tratteremo più l'elemento successivo al calcio è lo scandio ora voi osservate che l'elettrone va a disporsi in ritardo negli orbitali di tipo 3D quindi inizia la cosiddetta serie di transizione cioè si chiamano si chiama serie di transizione quella porzione quell'insieme di elementi costituiscono una serie di transizione quegli elementi nei quali avviene in ritardo il riempimento degli orbitali di interni lo scambio dispone un elettrone nel 3D il titanio un successivo elettrone nel 3D il vanaglio un terzo elettrone quando si passa al cromo ci si aspetterebbe che un elettrone vada nel nel 3D e che rimanga imperturbata la situazione del 4S mentre invece il cromo presenta 5 elettroni nei 3D e un elettrone spaiato nel 4S questa è una configurazione suggerita da misure di momento magnetico che hanno suggerito per il cromo un momento magnetico corrispondente alla presenza di 6 elettroni spaiati ora questa struttura elettronica viene giustificata in quanto sono particolarmente stabili le configurazioni elettroniche con gli orbitali completi come è il caso dei gas nobili oppure con gli orbitali semipieni e questa condizione cioè con i 6 con 5 elettroni nei D e un elettrone nel 4S soddisfa questa condizione poi se passiamo al manganese l'elettrone in più fa sì che si abbia la configurazione normale nel 4S un elettrone e 5 elettroni negli orbitali 3D con il ferro si dice che il ferro è un D6 in quanto 6 elettroni sono negli orbitali D rimanendo imperturbato l'orbitale 4S il cobalto è un D7 cioè vi sono 7 elettroni negli orbitali 3D il nickel 8 elettroni negli orbitali 3D quando si passa al rame si osserva un fenomeno che viene giustificato con lo stesso motivo con le stesse motivazioni con cui abbiamo giustificato la configurazione del cromo invece l'ulteriore elettrone l'elettrone in più che il rame ha rispetto al nickel non va a disporsi nel 3D lasciando imperturbato l'orbitale 4S ma bensì c'è il completamento degli orbitali 3D e un elettrone soltanto nel 4S questa è una situazione di orbitali pieni e di orbitale semipieno che soddisfa le condizioni di minima energia poi fine via lo zinco con lo zinco abbiamo completato gli orbitali D e completato anche gli orbitali S ricordo che gli orbitali S pur essendo i più esterni e che si erano riempiti prima perché si venivano a trovare ad energia minore dei 4S ricordiamo che sono molto importanti nelle caratteristiche chimiche di questi elementi perché quando gli elementi questi elementi reagiranno con altri elementi saranno gli elettroni più esterni i più sensibili finalmente terminiamo questo periodo affrontando le configurazioni del gallio germanio arsenico selenio bromo e cripto in cui avviene il completamento degli orbitali 4P nel modo regolarissimo per cui non vale neanche la pena che noi facciamo commenti abbiamo quindi capito che disponendo gli elementi in ordine crescente di numero atomico gli elementi che vengono le configurazioni elettroniche si ripetono periodicamente in modo tale che gli elementi che giacciono in uno stesso gruppo cioè in una stessa verticale hanno proprietà chimiche simili di l'elementi di l'elementi Grazie.